4 milioni e mezzo per il nuovo hospice di Arezzo che sarà finalmente restituito alla cittadinanza. Si tratta di risorse che arrivano grazie all'accordo di programma Stato-Regione sull'uso di oltre 61 milioni destinati in Toscana ad 11 interventi di edilizie sanitarie da modernamento tecnologico per ospedali e servizi territoriali. All'Asra Toscana Sud-Est in totale 17,7 milioni risorse che andranno su tre interventi, una nuova casa di comunità sia nel distretto di Viale Sardegna, il rinnovo di apparecchiature elettromedicali ed un nuovo hospice ad Arezzo. Quindi Arezzo riavrà quello che aveva ma in termini assolutamente migliorativi. Quindi una volta avvenuto meno quello che c'era a causa Covid abbiamo attraversato questi anni comunque con un servizio che in maniera diversa è stato garantito, ora la realizzazione con un investimento di 4 milioni e mezzo messi a disposizione dalla regione non solo ridarà un hospice che è una struttura che oltre che essere una struttura di cure e anche una struttura direi di civiltà ma continuerà anche a riqualificare un pezzo del pionta. Il nuovo hospice avrà più spazi per malati terminali e famiglie. Ci saranno otto camere di indegenza e due locali di dei ospital al piano terra. Il primo piano sarà invece destinato ai servizi per il personale dipendente. Era un impegno che ci eravamo presi un po' di tempo fa e che ora ha raggiunto una prima tappa cioè quella di avere la certezza delle risorse e quindi da domani l'azienda sanitaria potrà entrare nel vivo della fase progettuale poi ci agoriamo nel cantiere per poi arrivare a dotare questa realtà di un ulteriore servizio qualificato per le persone. I tempi per l'hospice sono tempi connessi al fatto che adesso abbiamo il finanziamento usciremo con la gara per la progettazione e l'esecuzione come tutte le opere pubbliche i tempi sono quelli di qualche anno però certo è che avere il finanziamento avere già un progetto di massima ci consente di vedere la luce in fondo al tunnel e mi pare che anche questa zona della città con la sanità la luce in fondo al tunnel e anche proprio a campo aperto la stia vedendo.